ciao da luci oggi faremo insieme questo cuoricino porta chiavi allora io ho deciso di usarlo come porta chiavi ma essendo sotto le feste potrebbe essere anche tranquillamente usato mettendo un cordino al centro come decorazione dell'albero di natale l'ho pensato come regalino di natale quindi una cosa facile e veloce che potesse essere un bel pensiero di natale per chiunque voi vogliate allora il materiale che ho usato è questo bellissimo cordino ora non ho più la fascetta ma vi dico che è macramé cord acquistato da italia artisan ho deciso di usare questo cordino perché è molto molto morbido e per le creazioni piccole da una volta lavorato una buona rigidità però è molto morbido da lavorare vedete com'è molto morbido flessibile e anche molto bello da lavorare ho usato quindi questo filato che potete trovare nello shop italia artisan un ago da lana un uncinetto numero 3 ovviamente forbici e un pochino di ovatta per poterlo riempire quindi direi che andiamo subito al tutorial per iniziare ho avviato 11 catenelle ovviamente le catenelle iniziali dipendono un po' da quanto volete grosso il vostro cuoricino essendo un porta chiavi ho valutato che non dovesse essere troppo grande poi se decidete di fare questo cuoricino come qualsiasi altra cosa quindi non come porta chiavi ma come cuscinetto e potete tranquillamente variare le misure allora entriamo nella seconda catenella e effettuiamo una maglia bassa ed andiamo a fare una maglia bassa in ognuna delle nostre catenelle sottostanti per un totale ovviamente di 10 maglie basse sì ecco qui fatte le nostre 10 maglie basse facciamo una catenella voltiamo il lavoro ed andiamo a fare un altro giro di maglie basse in totale dovranno essere 5 giri tutti di maglie basse fatti i nostri 5 giri di maglie basse facciamo una catenella voltiamo il lavoro ed ora andiamo a fare 5 maglie basse su 5 maglie basse sottostanti quindi ci fermiamo a metà del nostro lavoro allora sono 1, 2, 3, 4, 5 catenella voltiamo e andiamo avanti a fare queste 5 maglie basse per un totale di 5 giri fatti i 5 giri vedete noi abbiamo già questa forma che richiama il cuoricino ora dobbiamo bordare il nostro cuoricino quindi senza fare aumenti ne niente rientriamo nella stessa maglia dove abbiamo lavorato l'ultima e facciamo una maglia bassa dopodiché facciamo una maglia bassa su ogni giro effettuato quindi lavoriamo lateralmente in questo modo andiamo a fare una maglia bassa su ogni maglia bassa che andiamo ad incontrare sia lateralmente che nel senso giusto delle maglie vedete in questo modo andiamo a fare tutto un giro di maglie basse quindi entriamo in questa facciamo la maglia bassa rifacciamo la maglia bassa ovviamente perché quando siamo sull'angolo ne facciamo due senza catenelle senza aumenti facciamo soltanto la maglia bassa sia in un senso che nell'altro quindi andiamo avanti a fare scusate maglie basse tutte attorno in questo modo negli angoli ne facciamo sempre due perché se no tira troppo quindi riprendiamo lavorando anche sulla inizio del lavoro quindi sulla catenella iniziale però da sotto ricominciamo a fare le nostre maglie basse vedete che è un po' si curva è normale e farà la bombatura quindi andiamo a fare tutte le nostre maglie basse in ogni maglia bassa sottostante poi ingloberemo anche la codina d'inizio così non ci darà fastidio ecco qua questa è la prima maglia sulla punta del nostro cuore faremo una maglia bassa una catenella e una maglia bassa l'unico aumento che faremo sarà proprio sulla punta del cuore perché ovviamente ci serve che abbia lo spigolo dopodiché ricominciamo ad entrare su ogni maglia bassa con una maglia bassa ripeto sia lateralmente quindi su ogni giro e su ogni maglia andremo a fare le nostre maglie basse in questo in questo modo sembra difficoltoso ma è solo perché io ho davanti la videocamera e quindi è un po' fastidioso lavorare così ma non vi preoccupate ecco qui facciamo l'ultimo pezzettino e ovviamente arrivati all'inizio del nostro lavoro non facciamo altro che chiudere con una maglia bassissima vedete che abbiamo già la forma del cuore leggermente bombata questo è quello che dobbiamo avere quindi tiriamo il nostro filo tagliamo nasconderemo poi tutti i fili a parte il primo che possiamo tagliarlo perché l'abbiamo inglobato questo filo lo andremo poi a nascondere quando andiamo a rifinire ecco qui abbiamo fatto la nostra metà cuore dobbiamo fare un'altra metà allo stesso modo una volta fatte le nostre due metà guardiamo bene qual è il nostro dritto e qual è il nostro rovescio ecco qua ce ne accorgiamo anche perché il bordo definisce molto bene qual è il dritto e il rovescio quindi senza staccare l'uncinetto sovrapponiamo le due parti in questo modo ed andiamo un filo da questo lato ed andiamo ad unirle a punto basso quindi qui ho il mio filo entro nella prima vado a nascondere le codine nel caso ce ne fossero entro nella prima prendo dritto anche l'altro cuoricino ed entro nella stessa maglia in questo modo dall'altra parte tiro il filo e chiudo con una maglia bassissima entro in ogni maglia quindi prendendo prima quella davanti così la vediamo bene ecco qua questa e poi andiamo a prendere la stessa maglia dietro in questo modo esco dalla prima esco dalla seconda e faccio la mia maglia bassa nella prossima entro nella prima sembra difficile è sempre una questione di camera davanti entro nella seconda e chiudo con una maglia bassa se le tenete unite magari è più facile quindi entro nella prima prendo anche quella dietro ho sfilato tutto ecco qua entro in quella davanti in quella dietro unisco con la maglia bassa in quella davanti in quella dietro unisco con la maglia bassa al centro qua farò una maglia bassissima quindi al centro del nostro cuoricino faccio una maglia bassissima così rimane più definito il centro e quindi poi riprendo a fare maglie basse su tutto il perimetro del nostro cuoricino quindi proseguo senza fare nessun aumento sugli spigoli è giusto che debba curvare perché così il cuoricino sarà bello tono siccome con la telecamera davanti faccio molta fatica vi lascio proseguire da soli tanto avete capito che va preso sia un lato che l'altro e unito a maglia bassa ci vediamo sull'angolino arrivati sulla catenella che avevo fatto al centro della punta quindi in quella catenella entriamo sia davanti che dietro ovviamente e facciamo l'aumento perché noi vogliamo sempre che il nostro cuoricino abbia una bella punta quindi entro in quella catenella faccio la prima maglia bassa faccio una catenella e rientro facendo una seconda maglia bassa dopodiché procedo unendo allo stesso modo questo lato quindi entro davanti sempre la telecamera davanti è fastidiosa entro davanti entro dietro maglia bassa entro davanti entro dietro maglia bassa davanti dietro maglia bassa guardate bene che siano ben giunti altrimenti poi vi fanno le gobbette davanti dietro maglia bassa e andiamo avanti così allora maglia bassa in questo modo stiamo unendo il nostro cuoricino arrivati a un certo punto ecco questo punto andremo ad inserire la nostra ovatta allora piano piano poco per volta sono delle codine che sono avanzate andiamo a infilare dentro la nostra ovatta la sistemiamo bene ecco qua sistemiamola bene in tutto il nostro cuoricino mettiamola poco alla volta altrimenti non ce la facciamo ecco qui inseriamo tutta la nostra ovattina facciamo in modo che abbia una bella forma insomma sistemiamola un attimino ancora un pochino ecco qui vediamo ancora un pochino vediamo se ci sta tutta ecco qua il nostro cuoricino vedete che si sta formando ora abbiamo inserito la nostra ovatta riprendiamo il nostro uncinetto e procediamo e procediamo a chiudere l'ultimo pezzettino vediamo ecco qua quindi davanti dietro maglia bassa vediamo ho allungato un po' la catenella prendiamo tutto stiamo attenti a non tirarci fuori l'ovatta se no avrete i ciuffetti di ovatta che escono dal vostro cuoricino ripeto tutti questi passaggi sono molto semplici a me risultano difficoltosi perché ho davanti la videocamera ma vi assicuro che è tutto molto semplice vedete siamo arrivati alla fine di nuovo vediamo qua sistemiamo bene dentro la puntina ecco qui quindi davanti dietro maglia bassa e l'ultimo punto davanti dietro scusate ero fuori davanti dietro prendiamo tutte e due le catenelle mi raccomando altrimenti poi vi rimangono i buchi faccio la maglia bassa ora vado a fare una maglia bassissima nella prima dove la prima qui ecco qua prendendo sia davanti che dietro mi raccomando sempre davanti e dietro una maglia bassissima ed ora vado a fare un tot di catenelle che deciderete io ne faccio una decina due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci le sto facendo molto strette per insomma fare in modo che siano belle strette entro nella stessa maglia o in quella a fianco faccio la maglia bassissima tiro il mio filo e vado a tagliare ora sfilo tutto il mio filo in questo modo prendo il mio ago da lana ecco qui vado a nascondere il filo qua abbiamo l'imbarazzo della scelta sul nascondere il filo allora un pezzettino qui entro qui dopodiché io entro attraverso il mio cuoricino state che questo ago è gigantesco quindi faccio fatica entro attraverso il mio cuoricino attraverso l'ovatta attraverso tutto esco in un punto qualsiasi oggi quando l'ho fatto senza telecamera era molto più semplice ecco qua esco in un punto qualsiasi e taglio il mio filo in eccesso ecco qua sistemo bene magari facendo rientrare l'ovatta che ho tirato fuori sistemo bene il mio cuoricino ed ecco qua un altro bel cuoricino fatto se volete se volete farlo diventare una pallina di natale piuttosto che comunque una decorazione natalizia non vi serve altro che qui chiuderlo e poi creare una catenella qui al centro andremo poi a mettere il nostro anellino ed ecco qui il nostro cuoricino portachiavi o comunque decorazione natalizia io l'ho fatto col cordino perché volevo che fosse un po' rigido nulla vi toglie che voi possiate farlo con qualsiasi altro filato questo cordino è molto morbido da lavorare ma gli dà una certa rigidità quindi io preferivo che fosse un po' rigidino io spero che questo progettino facile facile velocissimo vi sia piaciuto vi invito a mettere tanti like vi invito a venire a trovarmi sul gruppo facebook creando con luci su instagram sempre creando con luci andate a dare un'occhiata nello shop italia artisan e io vi aspetto al prossimo tutorial ciao ciao